Conoscete abbastanza bene Torpignatare? Secondo me no. In 15 dicembre venire a scoprire Torpignatare insieme a noi. Siamo andando alla piuttura così facciamo il tour. Questo tour con quattro anni tematiche. Storia, paesaggio, gusto, architettura e scrittura. Ciao a tutti, io mi chiamo Tayyipa e oggi parleremo di Vila de Santis. Trattoria da Francesco. Attori e scrittori molto famosi erano soliti andare lì. Come Gigi Brogliezzi e Benigni. Questo quartiere ha un mix di culture. Venite e non mancatevi!